Camisano, lo schianto improvviso, imprevedibile, è ancora in corso di verifica la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Chiara Cherobin, 25 anni di gazzo padovano. In via Ragusa, tra Grumolo della Badessa e la frazione di Santa Maria, tutto accade in pochi drammatici istanti. Il SUV, su cui viaggia la giovane donna, si sarebbe toccato con un'altra auto durante un sorpasso. La sua macchina è finita in un fossato per poi schiantarsi contro un muretto. I vigili del fuoco, a corsi da Vicenza, hanno estratto dall'auto la ragazza mentre era iniziato un principio d'incendio. Per lei, purtroppo, niente da fare, sarebbe morta sul colpo. Gravemente ferito anche il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente, ricoverato in ospedale in prognosi riservata.